Quattro ragazzi che non si conoscono fanno sempre lo stesso sogno nel quale sono pronti alla battaglia l'uno accanto all'altra con una spada dorata sguainata di fronte a un castello sconosciuto. Il destino li porterà ad incontrarsi anche nelle realtà, a Roma, seguendo un percorso ben preciso, quasi pilotato da qualcuno. Seguendo un profumo di fiori saranno magicamente trasportati in un mondo lontano in cui il loro destino si compirà. Dovranno affrontare molte prove che li uniranno a doppio filo con delle entità magiche primordiali, direttamente connesse con le stelle. Stelle dalle quali dovrà nascere una nuova regina, portatrice di pace e prosperità. Sotto la guida di un mago bambino i ragazzi si conosceranno e si legheranno tra loro in un'amicizia che va oltre i confini del tempo e dello spazio e compiranno la loro missione superando insieme dolori e difficoltà. L'immagine del mio sogno è un romanzo per ragazzi che vuole insegnare ai giovani che ognuno di noi è speciale, a suo modo e che se si ha qualcuno accanto con cui percorrere la propria strada tutto sarà più semplice. L'immagine del mio sogno